Certo che siamo proprio un paese che si occupa di tutto, meno di quello di cui dovrebbe davvero occuparsi, ma li leggete i giornali, sentite i TG o i dibattiti televisivi, temi astrali, autoreferenziali, di cui gli italiani non dovrebbe fregare proprio niente, tipo Santoro e i gusti sessuali della Pascale. Sembriamo tanti tafazzi in preda a farci del male da soli. Chissà a quale sindrome corrisponde questa autoalesionistica tendenza? Gli italiani rifuggono dalla responsabilità, dall'impegno, dai sacrifici anche. Ognuno preferisce scaricare sul suo vicino i compiti che dovrebbe svolgere. Per questo siamo il paese dello scaricabarile continuo. Veramente io volevo dare la colpa ai giornalisti. Certo Claudio Velardi da buon cattivista qual è, segue il precetto di Woody Allen e ci bastona tutti indistintamente. Per esempio non sono forse stati i media a montare il caso Pripke? Dico io, quelle esecue erano davvero un problema capitale? In questo caso si spalma un po' di retorica su alcuni difetti antichi, atalici degli italiani. La faziosità, l'opportunismo, il trasformismo. Oppure ditemi voi se vale la pena di discettare sul carattere di Balotelli, ma chi se ne frega? Se a Balotelli una senatrice della Repubblica dice che è imbecille, lui farebbe bene a rispondere. Il tema non è centrale, lo fanno diventare centrale spesso i politici. Dunque per Velardi non andava sollevato il caso dello stipendio di Fabio Fazio. Sono due considerazioni da fare. La prima è che la sinistra difende lo stipendio di Fazio e non gli altri stipendi milionari. Io vorrei capire perché. La seconda è che lo stipendio di Fazio va benissimo, ma se la RAI si orienta in via definitiva verso il mercato. Altro esempio, ma è normale che sia Celentano a dire se le grandi navi da crociera possono o meno entrare in Laguna Venezia? Ma perché non canta? Dico io. Lui può dire quello che vuole, ha tutto il diritto di farlo. Il problema è che c'è poi chi dovrebbe decidere che deve farlo indipendentemente da Celentano. Comunque esempi di discussioni oziose se ne potrebbero fare a bizzeffe. Ce ne sono nella cronaca quotidiana, continui, devastanti per questo paese che invece avrebbe bisogno di pensare alle cose davvero importanti, anzi alla cosa davvero importante che è quella di fare riprendere il cammino della crescita e dello sviluppo. Anche perché così fenomeni circoscritti minoritari vengono amplificati a dismisura dando l'idea che siano fenomeni di massa. Le piazze sono quasi sempre fenomeni minoritari. I media creano questi fenomeni, li gestiscono e poi li criticano. La responsabilità principale è della comunicazione. Mi domando, ma se non ci fosse questa cassa di risonanza, fatti di violenza come quelli visti a Roma nei giorni scorsi, accadrebbero lo stesso? Io ne dubito. Comunque le responsabilità dell'Italia che non funziona sono molte, di tanti. Vediamo un po', facciamo una graduatoria. I magistrati sono i peggiori semplicemente perché comandano loro. La Seconda Repubblica è guidata dai magistrati. A seguire subito dopo i giornalisti perché fanno l'agenda sulla base di quello che i magistrati vogliono. Poi vengono gli imprenditori che non fanno il loro mestiere in Italia. Poi vengono i sindacalisti che sono la peggiore casta e poi stupirà, ma secondo me solo all'ultimo posto, anzi al penultimo vengono i politici perché sono i più deboli e i più esposti. All'ultimo i militari che sono ancora più deboli dei politici. Io invece penso che al primo posto vada messa la politica. Credo nel primato della politica e dunque quando un paese non funziona, declina, penso che la maggiore responsabilità sia quella del sistema politico e istituzionale. Si dice ma spesso è sotto schiaffo. Ecco appunto, io nella vita applico il principio che se vola una sberla la colpa è di chi se la fa dare. Sigla.